C'è il peso! Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno a sfidare, a contrastare, a sorridere di fronte agli insulti, vivere. A ammiratori e detrattori, a chi lo applauda e chi lo detesta. Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d'affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. Grazie Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo politico. Grazie per noi!